Sì, cosa vuoi che il perito è tanto suo così avviciniamo? Sì. Sì, ho scelto? Sì. Sì, è alto. Sì. 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 È anche quello che si fai. Ciao, sto facendo sinistra Sto svolgendo un lavoro importante perché tutta sta roba ve la mando Mi fai vedere bene che c'è un po' di